Gentili telespettatori, buona giornata. Matteo Bassetti insiste, basta con le restrizioni, come in Gran Bretagna, gli inglesi sono più avanti di noi, noi siamo fermi, occorre dare un segnale che a marzo le cose possono cambiare. Gli inglesi sono avanti, dice Bassetti, alla di Enne Granos Salute, un'agenzia di stampa, e commenta che dal 24 di febbraio, tra tre giorni, in Gran Bretagna vengono cancellate tutte, ma proprio tutte le restrizioni, perché il Paese ha deciso di convivere con quello che è oggi il Covid sotto forma di Omicron. Hanno deciso di convivere, hanno vaccinato tutti quelli che si potevano vaccinare, hanno fatto le dosi, prima, seconda, terza, hanno fatto di tutto per favorire l'economia e tutelare la salute, dice abbiamo fatto tutto quello che potevamo, adesso si va avanti come si andava avanti prima di questa malattia. Non è finita, ma che dobbiamo fare? Andiamo avanti. E aggiunge Bassetti, non so se sia giusto togliere tutte le restrizioni o aprire tutto domani. In che senso? Boh, ma occorre dare un segnale che le cose vanno meglio e non stare fermi, dice il direttore della clinica malattie infettive del Policlinico San Martino di Genova, che con marzo le cose possono cambiare. Penso ad alleggerire le misure sulle mascherine o sul green pass in alcune situazioni. Le decisioni spettano alla politica, che si assume le responsabilità in un senso o nell'altro. Che si assuma le responsabilità. Ma lui dice che si assume le responsabilità in un senso o nell'altro. Va bene, va bene lo stesso. Non è importante com'è la frase, ma è il concetto. Eh sì, la politica è il decisore. Non è realmente Speranza o chissà chi o il consigliere. In realtà abbiamo capito che chi decide in questo governo non è l'organo collegiale del Consiglio dei Ministri, ma è realmente Mario Draghi, che non ha nessuna paura, nessun timore di questi politici e di questi partiti. Anche perché lui non deve dire sì signore, Draghi ha nessun capo politico, poi magari non mi ricandida più, come faccio ad arrivare alla pensione. Draghi ha già la pensione. È più che benestante. Non l'hanno mandato al Quirinale, quindi è anche abbastanza innervosito. In più, non ha nessun partito cui appartiene che deve dire sì signore. Se se ne va a casa, gli fanno anche un favore perché si va a riposare, quindi lui dice o fate come dico io o me ne vado. Scegliete. Non è che io... Lui dice non è che io sia un despota. Io vi dico sono qua e voglio che fate come dico io. Voglio che facciate come dico io. Se non volete lo dite, che me ne vado e ve ne trovate un altro e fate quello che volete. Quindi lui non è che dice o si fa come dico io o si fa come dico io. Lui pone l'alternativa. A me piace lavorare così. Io decido e voi eseguite. Se non vi piace, ve ne trovate un altro. Ma i politici per caso non ne trovano un altro perché non vogliono andare a casa disoccupati, perché non potrebbero trovarne un altro. Mattarella manderebbe tutti questa volta delle lezioni anticipate. Questa volta non potrebbe più dire Ceccovidi, vi mando Tizio, Caio, Sempronio. Neanche Sempronio ci potrebbe mandare. Quindi le lezioni anticipate sarebbero assolutamente sullo sfondo. Pertanto alla fine il decisore politico sulle restrizioni è Mario Draghi, che ha già parlato di allentarle, ma quello che il governo, ve l'ho detto in tanti video, quello che il governo vuole fare è questo. Aspettare che si completino le terze dosi, dicono per il 15 di marzo, chi lo sa. Magari per il 20, 25, 28 di marzo si riesce a finire la gran parte delle terze dosi, a quel punto il governo dirà da domani non c'è più il green pasto. Ma lo ha già deciso Draghi, solo che non lo dice prima, perché se lo dice prima poi la gente magari dice ok, allora non c'è più niente, allora basta, non faccio più la quarta dose, la terza, la seconda. Ecco, il governo vuole far finta di mantenere queste restrizioni per continuare a fare le terze dosi e magari a convincere ancora qualche lavoratore che ha più di 50 anni, che non ha fatto il vaccino e senza stipendio, dice beh, magari qualcuno di questi si convince, così abbiamo altri 30 giorni, 40 giorni di tempo dove ci saranno più vaccinati sicuramente qualche prima dose in più, qualche seconda dose in più, si spera di aver finito le terze dosi. Questo è realmente quello che io penso sul governo e quello che sta facendo. Vuole togliere le restrizioni dal 31 di marzo, vuole il governo, Draghi vuole toglierle, ma vuole aspettare questi 40 giorni e ti dice tanto cosa lo dico prima, così poi la gente non va più avanti con il ciclo vaccinale. Questo è quanto sta succedendo. Intanto in Italia giù contagi e ricoveri e quattro regioni vanno in giallo, da ieri sono in giallo, quindi a parte che i colori delle regioni non interessano più, perché non servono più a niente. Però l'ultimo bollettino parla di 50.500 casi, 492.000 tamponi processati, il tasso di positività scende al 10,3, terapie intensive meno 34 e ricoveri ordinari meno 561. Questi numeri sono la somma tra entrate e uscite, quindi nei reparti ordinari meno 561 è un grande numero. Intanto poi l'AIFA dà l'approvazione alla quarta dose, dice il governo faccia quello che vuole e da lunedì 21 febbraio da ieri sono tornati in giallo Abruzzo, Marche, Piemonte, Val d'Aosta. Voi direte cosa cambia che sono tornati in giallo? Niente, assolutamente nulla. Il costo dei colori ormai è solo un giochino scemo che non serve proprio più a nulla. Bene, i pazienti attualmente in terapia intensiva, pensate un po', sono scesi a 953. Erano 1.700. Vuol dire che ci sono un bel 800 in meno in terapia intensiva. E le persone attualmente positive sono 1.369.000, con un calo di 35.000 ieri. E si contano 85.000 guariti. Bene, grazie a tutti e buon proseguimento di giornata.